Ehi! Ciao! Stasera il video sarà una sorta di esperimento. Mi sono messa qui vicino alla finestra e prima stava diluviando. Spero infatti che ricominci a piovere così c'è quel meraviglioso sottofondo di pioggia. Però non so se lo sentite, anzi sicuramente lo sentite, ma c'è un bel po' di vento. C'è a chi piace, c'è a chi non piace. Io sto provando a fare qualcosa di diverso. Volevo includere un po' di suoni della natura, ci sono gli uccellini, ci sono delle foglie, quindi spero possa essere un esperimento riuscito. E per il video ho deciso di fare un semplice tocco riflesso, il mirrored touch. Ho scelto di usare una voce soft-spoken perché probabilmente di disperimento non si sarebbe sentito abbastanza con tutti questi suoni di sottofondo. Quindi io inizio con questo trigger e parto dal mento. Tocco il mio mento e il tuo delicatamente. Tocchi leggeri. Adesso faccio un po' di tocchi con le dita. Tocchi leggeri. 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 per tenire un sacco di brividi facciamo un'altra guancia tra l'altro mi era stata fatta anche una richiesta per questa tipologia specifica di trigger quindi ho voluto anche accontentare un po' ma spero sia comunque rilassante tocchi leggeri naso top 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 doppio adesso facciamo la fronte io adoro quando mi accarezzano la fronte la trovo molto confortante e super rilassante facciamo adesso dei tocchi prima a me e poi a te un'altra cosa che mi piace tanto è fare questa cosa con le dita e mi immagino come se fosse una pioggia che cade sul viso piccole gocce d'acqua piccole gocce d'acqua piccole gocce d'acqua che cadono sul viso che cadono sul viso cazz cuatro sud fresh Allora, allora, allora. Il collo è un'altra zona molto sensibile Mi vengono già i brividi a farmelo da sola Super, super rilassato Il tocco è un qualcosa di più Così potente Così Confortante Spero che tu lo riesca a percepire Così Adesso tocco i vari punti con il dito Tapp 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 tutti i pensieri che ti appesantiscono è incredibilmente calmante questo semplice gesto di accarezione e salsi il viso con un pennello adesso facciamo le palpebre in un'altra zona che mi piace un sacco è come se fossero delle nuvole questi pennelli sono i cosi sarvici portano via tutti i pensieri tutti i pensieri sono i cosi sarvici non c'è assolutamente nulla a cui devi pensare l'unica cosa che conta adesso è il tuo rilassamento il tuo senso di pace di serenità di calma potrebbe fare un po' di soledico sulla bocca puoi lasciarti andare puoi lasciarti andare abbandonati a questo profondo profondo rilassamento ascolta ascolta il tuo corpo e abbandonati completamente 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 Questa immensa pace che ti pervade, fare si che tu faccia un lungo sonno profondo ristoratore, non c'è più nulla che ti appesantisce, son profondamente calma e rilassato, calmo e rilassato, calmo e rilassato Grazie